ANSA, Roma, 18-8, negli ultimi dieci anni gli immigrati hanno comprato circa 850.000 alloggi per lo più nei piccoli comuni delle aree metropolitane o nelle periferie urbane, con una spesa media di 120.000 euro. E. Quanto ha spiegato Mario Breglia, presidente di SIDF presentando lo studio condotto con Nomisma e Censis. Per lo più si tratta di case di piccola taglia, circa 50 metri quadrati, e il rischio sovraffollamento c'è. Inoltre la crisi ha avuto il suo peso. Negli ultimi anni, anche a causa delle difficoltà ad avere un mutuo, gli acquisti, si evidenzia, sono scesi a circa 50.000 l'anno, meno della metà rispetto al 2007-2008.